Salve le gente di Gabby e benvenuti in Uccidili con il fuoco! Probabilmente ci troviamo in una casa australiana Questo gioco sarà la mia kriptonite Ragni, maledetti ragni, li odio! Beh, in questo gioco potremmo difenderci una volta tanto E allora iniziamo subito con il primo contatto Allora, ci troviamo in una casa apparentemente calma Ma vi posso assicurare che non è così Qui, da qualche parte, potrebbero esserci dei ragni Grandi come... Come una casa! Porca vacca! Oh no, oh no, oh no, non posso tornare a casa? Oh no, sono già a casa Niente ragazzi, prendi il bloc note Ok, obiettivo uccidi un ragno? Morstua, vita mia! Siete entrati nella mia casa, maledetti! Io non vi ho dato il permesso, mi dispiace E poi è un videogioco Oh cavolo, ho fatto danno! Farò molti danni, mi sa! Dove vi nascondete? In mezzo alla cultura Siete dei ragni studiosi? A parte guardate il mio gusto per l'arte Eh... Ah! Ok! Pessimo! Pessimo appunto! Pessimo! Ok, ne ho ucciso uno Ho completato uno degli obiettivi Oh, ne stanno arrivando tantissimi! Apri! Vi prego, non posso andare avanti solo di bloc note Non posso andare avanti! Ok, ho trovato qualcosa qui Trova i ragni? Ok, ve l'ho detto che erano degli alieni Ho praticamente il sensore dell'alien per trovarli Ragnetti? Dove vi nascondete? Qui ce n'è uno Dove? Cavolo, ho finito le batterie! Aaaaaah! Vedi? Sangue verde! Vengono da Marte! Ne ho ucciso un altro Oh cavolo, se arriviamo a quattro possiamo sbloccare una nuova porta Ma questa casa dovremmo bruciarla con il fuoco Datemi un lanciafiamme, vi prego! Ok, ora posso aprire anche questa altra cassettiera Molto bene, spero di trovarci qualcosa Una bomba atomica magari Uh! Dovete sapere che mio padre era un bravissimo ninja Venite fuori con le mani in alto e forse vi lascerò Salva la vita! Giurin giurelli! Dove si nasconde il ragno bello? Vieni qua! No! No! Oh! Dove vi nascondete? Volete giocare a pallone? C'è la finale di a... Aaaaaah! Era dentro il pallone! No! Oh cavolo! Oh cavolo! Nel mio pianoforte! Ok! Ci sto facendo il callo ragazzi Ci sto facendo il callo Ma la mia casa veramente Cosa dirà la mia ragazza che se... La mia ragazza secondo... Io non ho più una ragazza E questo è il fatto Io non ho più una ragazza Dopo che la mia casa è stata ridotta così Apremus nuova porta Benvenuti nel mio bagno Oh sì! Qualcuno che si vuole fare un bagnetto con me? Aaaaaah! Oh! Mi tiro la maledetta saponetta Uccidili con la saponetta Oh no ragazzi Io ho trovato... Sì! Lancia fiamme! Diamo fuoco a tutto! Cosa c'è qua? Anche nel cesso ce n'era uno! Anche nel cesso... Io non cagerò mai più qui! Anche nel cesso! Dammi 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 Qua dobbiamo prenderle tutte le bombolette C'è un obiettivo che devo bruciare tutto Non me lo faccio ripetere due volte! Questo è il miglior obiettivo del mondo! Brucia tutto! Bruciamo anche il caminetto Finché la barca va... Lasciala bruciare! Ormai la casa è andata signori! Ormai è andata! Possiamo tranquillamente mandarla a fancuore! Purifichiamola! Mmm! Guardate qui! Possiamo sbloccare un nuovo cassetto! E vai! Apriti! Apriti se... Uhu! Bang! Bang! Motherfrager! Abbiamo trovato la pistola! Dove sei? Ti devo dare una lezione! Te la voglio insegnare! Che ti entri in testa! No! Non è il cesso! Non è il cesso di nuovo! Dammi i libri! Sì! L'ho schiacciato con i libri! Ho fatto tutti gli obiettivi! Wuhu! Batti un cinque! Beh ragazzi abbiamo ucciso abbastanza ragni per andare nella parte della casa ancora più infestata mi sa! Da mio cugino! Andiamo da mio cugino! Vediamo come sta! Qui ci sono tutte le armi che abbiamo sbloccato! Mamma mia! Guarda cosa puoi sbloccarti in futuro! Ok ragazzi! Andiamo avanti! Andiamo al secondo livello! Che sono curioso! Mi sta strappiacendo sto gioco! Cioè mi dispiace un po' per i ragni! Fino a lì eh! Fino a lì per carità! Ma dico normalmente non è che mi metto ad uccidere ogni ragno che vedo! Anzi io tento anche a catturarli e portarli fuori! Ma questo è un gioco! E mi sta anche aiutando sapete! Psicologicamente mi sta aiutando! Perché avevo stra paura dei ragni! E l'ho ancora! Però forse dopo questo gioco ne avrò leggermente meno! Però non mi piace il loro versi! Ma era rosso! No ragazzi! I ragni rossi no! Sono molto più brutti! Ecco qua la tomba! Entrate là dentro! Suonatemi! Vieni qua! Ok! Oh! C'ho una mira ragazzi! C'ho una mira! Voglio andare però di pistola! Bam! Sei qui? Bam! Sei qui? Bam! Sei qui! E lì! E lì! E lì! Mirare e puntare! Ok! Ce l'ho fatta! Master bedroom! Allora qua! Dobbiamo trovare più oggetti! Ce ne sono tre da trovare qui dentro! Dobbiamo trovarne altri tre! Ok! Ah! Porco schitto! Oh no! No no! Oh no! Sto finendo le munizioni! Maledetto! Torno indietro! Torno indietro! Sei il coraggio! Mamma mia! No niente! Andiamo con il classico! Con la classica! Mamma mia! Volete della frutta? Natura morta? Sarà morta per un motivo! Vroom vroom! Almeno questa la salvo! Questa è la mia navicella preferita di quando ero bambino! Sei al sicuro cara? Sei al sicuro? Ti proteggo io dai ragni? Bamboni bonsai! Ciao! L'urida bestia! No! No! Avevo detto di no! Prima di andare avanti con la prossima stanza voglio assicurarmi di averli eliminati! Tutti! Tutti! Ok! Uff! Uff! Dove sono questi ragni? E allora vamos muchachos! La mia valigia prena dei milioncini! Questa la userò per scappare in Messico! Scappiamo in Messico! La preparo! La preparo lì! Ok! Ah! La mia ex! Zoologa! Ah! E ora sapete perché è la mia ex! Lo sapete perché è diventata la mia ex! Dopo che mi ha fatto questo tiro mancino! Studiava sempre i ragni! E ha esagerato! Ha esagerato! Oh! Prima che andasse sotto il letto perché quando vanno sotto il letto ragazzi è la fine! Uh! Ho trovato delle batterie! Qua ce n'è uno! Lo sapevo! Me l'ho segnato il radar! Nice! Oh no! Shuriken! No! No! E cavolo! È andato sotto il letto! Vieni qua! Oh! Baby! Baby! Bala! Bala! Baby! Baby! Bala! 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 Ah! Sì! Uh! Qua c'è una porta chiusa! Dovrei trovare una chiave! Forse è qua dentro? Eccola! Perfetto! Era qua dentro! Andiamo qui e vediamo un po' che c'è! Ok! Ok! Ragni! Stavo avendo sempre meno paura, signori ragnetti! Dove vi... Ah! Ok! Ok! Ma buon salve! Ma buon addio! Ok! Ora sarà molto più semplice eliminarli! Ma molto più semplice! Venite fuori con le zampette in alto! Ok! Mi sa che posso andare per il bagno! Tocchiti toc! Ah! No! 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 Due! Due! Due maledetti pezzi di erba! Sono scappati nell'altra stanza! Brucia a sto punto! Ok raga! Ho aperto un'altra... Teddy! Teddy che ti hanno fatto? Sei vivo? Ancora per poco, Teddy! Ci penso io! Ci penso io! No, non ci penso io! Cosa oggi? Non ho mira! Comunque te ne meriti tu o uno anche tu! Per riaverli fatti entrare nella nostra stanza! Ti ricordi quando giocavamo assieme? Sei un malvagio! Mamma mia! Pure nel mio pallone preferito! Sempre! Bene! Bruciamo! Bruciamo la stanza! Bruciamola! È andata ormai! Teddy mi dispiace anche tu! Diventerai un Teddy abbronzato! Mi sa di sì! Un po' abbronzato! Mamma mia! È pieno! Semafero rosso vuol dire stop! Stop! Stop a tutti! Lo metto qua così! Ragazzi magari ci cascano, si fermano! Nel mio computer, la mia sedia da gaming! Io un tempo giocavo qua! Ma va purificato! Va purificato! Niente da fare! PC da gaming! Addio! C'era una 2080 Ti qui dentro! Addio! Ormai ci sono dentro i ragni! Sto cercando di raccogliere... Oh! Ho trovato una nuova cosa! Ho trovato delle patatine! Patatine e formaggio! Le amano i ragni! Ok raga! Forse ho trovato il modo! Forse ho trovato il modo per ucciderne due in un colpo! Allora, mettiamo un po' di... Ecco, un po' di robe qui! Le mettiamo tutte qui! E ora cerchiamo di svegliare un po' di ragni, così vanno lì! E poi li uccido con lo shotgun! Eccoli qua uno! Vai, vai, dalle patatine! Vai, dalle patatine! Vediamo se va! Si sta andando, sta andando! Si sta mangiando! Vediamo! È diventato un ragno gigante! No! No ragazzi, più le man... No raga, no raga, dobbiamo... Però non va bene! Trova una stanza segreta! Dove potrebbe essere ragazzi? Ok! Ok, guardate qui! Avevo una stanza segreta! E non posso aprire qua perché mi manca un obiettivo! No, vabbè, cos'è? Cargo shorts! Cos'è sta roba? No, voglio assolutamente vedere cosa c'è qui dentro! Oh, raga, l'ho sbloccata! L'ho sbloccata! Ho fatto tutti gli obiettivi! Ok! No! Poveri ragni, mi spiace! Il C-Binsorio al C4! Ok! Non so dove vi nascondete! Ma mi sa che devo dirvi addio! BOOM! Eh, vabbè, dai! Abbiamo finito qua! Abbiamo fatto 20 kill! Io, ragazzi, posso sbloccare la nuova porta! Abbiamo vinto! Mamma mia, mai più! Mai più comprare casa in Australia! Mai più! Credo che sia un po' un problema lì! No, raga, era una demo! No! Mi stavo divertendo! Appena esce il gioco completo, io voglio giocarci! È stradivertente! Cioè, fino a lì! Divertente è un po'... Però, a questo punto, tornerai in questo livello perché voglio completarlo tutto! Già che ci siamo, volevo fare l'obiettivo di ucciderne due in un colpo! Vedete, ci manca solo questo! Cioè, a sto punto, veramente... Porca vacca! Allora, teniamoli in casa! Ecco, facciamo un po' di casino qua! Cerchiamo di buttarne fuori più di uno! Così faccio l'obiettivo! Devo trovare... Eccone qua! Ce ne sono due! Ce ne sono anche più di uno! Prendiamo questi! Venite ora qua! Venite ora qua! Perfetto! E... Vediamo! Le uso tutte! Le uso tutte! Guarda, guarda, guarda come le mangiano! Ce l'ho fatta! Gli ho attirati! Era la tattica! E ora facciamo fuori tutto! In realtà abbiamo già vinto il gioco ma ora farò solo casino perché mi piace! Siete voi che dovete scappare in Messico ora? Non io! Pa! 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 Mani in alto! Dove siete? Vai ad attacca! Vai ad attacca! Vai ad attacca! Briciola! Vai ad attacca, Briciola! Ci penso io! Proprio solo di pistola adesso! Si può anche sbloccare una sorta di guanto antiragni? Ma non so come si fa... Oh, aspetta! Ci sono le mie bastiglie antiragno! Ne ho mangiata una! Ora sono immortale! Va bene, dai, ragazzi! Dopo aver distrutto mezza casa, penso che possiamo concludere qua questo video! È un gioco veramente assurdo! Che da una parte sono contento che ci metterà un po' ad uscire, ma fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere un altro episodio! Neanche Devi Fire of War ha tirato così tante slappers oggi come le ho tirate io! Però io vi ringrazio per la visione! Lasciate un like se volete vedere altri episodi! E noi ci vediamo ad un nuovo episodio! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!